Se stai seguendo la storia di Teresa Langella e Andrea dal corso da uomini e donne, ti farà piacere sapere che la coppia ha annunciato la data del loro matrimonio durante una recente apparizione a Verissimo. Si sposeranno il 14 settembre 2024, quindi mancano solo pochi mesi al grande giorno. Durante la trasmissione, i due giovani erano visibilmente felici e hanno condiviso che quasi tutto è pronto per le nozze. Hanno anche svelato che le telecamere di Verissimo seguiranno tutto in esclusiva, quindi non perderai neanche un dettaglio. La loro storia d'amore è iniziata cinque anni fa, quando si sono incontrati per la prima volta a Temptation Island e si sono poi innamorati nel dating show di Maria De Filippi. Durante la trasmissione, sono stati emozionati dalle clip dei genitori che chiedevano loro un nipotino. Tuttavia, è stata una lettera toccante della sorella di Teresa, Anna, che ha fatto scoppiare in lacrime Teresa Langella. Andrea dal corso ha letto una lettera commovente in cui elencava sette motivi per cui desiderava sposarla, tra cui la sua umiltà, il profumo dei suoi capelli e della sua pelle, e il fatto che condividessero la passione per i viaggi. Durante la conversazione, hanno toccato anche argomenti delicati. L'anno scorso, Teresa Langella ha denunciato di essere stata vittima di molestie da parte di un chirurgo e ha condiviso come sta procedendo il processo. Ha espresso timori riguardo all'esito del processo, dicendo di temere di non poter dire «abbiamo vinto noi». Andrea e Teresa l'hanno incoraggiata, sottolineando l'importanza che la giustizia faccia il suo corso. Teresa, visibilmente commossa, ha aggiunto che spesso la giustizia non fa il suo lavoro come dovrebbe, ma ha preferito cambiare argomento per non rendere triste l'intervista. Quello che è chiaro è che Teresa e Andrea, sono pronti per questo nuovo capitolo della loro vita insieme. Nonostante le sfide che hanno affrontato e stanno affrontando, la loro relazione sembra essere più forte che mai. La data del matrimonio è stata fissata e i preparativi sono in corso. È bello vedere una coppia così unita e pronta ad affrontare insieme tutto ciò che la vita ha da offrire. Sarà interessante seguire i prossimi capitoli della storia d'amore di Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Non vedo l'ora di scoprire come si evolverà la loro relazione, e cosa riserverà loro il futuro. Se sei un fan della coppia, non ti resta che aspettare il 14 settembre 2024 per vedere finalmente i due sposarsi. E, nel frattempo, continuerò a tenerti aggiornato su tutte le ultime novità riguardanti Teresa, Andrea e il loro percorso insieme. E, nel frattempo, continuerò a tenerti aggiornato su tutte le ultime novità, e, nel frattempo, e, nel frattempo, continuerò a tenerti aggiornato su tutte le ultime novità. Grazie.